Per il momento gli ultraturchi del Galatasaray non hanno occhi che per il marito, Wesley Snyder, 28 anni, neoacquisto della formazione di Fatih Terim, ma è sicuro che Yolante Kabau sia un altro grande acquisto per la tifoseria turca, tant'è vero che non passerà sicuramente inosservata, al punto che le stesse frange più calde dei sostenitori del Galatasaray le hanno già perdonato la sequenza molto hot di un film del 2006 in cui la signora Snyder interpretava la parte di una donna musulmana capace di sedurre un giovane ricorrendo a tutto il suo fascino, sequenze che nei giorni scorsi avevano fatto addirittura temere la possibilità che il trasferimento andasse in porto per ragioni di opportunità. Così non è stato, tant'è vero che l'accoglienza trionfale riservata alla coppia olandese ieri pomeriggio all'aeroporto Ataturk di Istanbul ha stupito sia Wes sia la signora Yolante che ha già descritto con i suoi tweet quanto meravigliosa sia stata l'accoglienza di Istanbul e quanto bellissimo, così lo ha definito testualmente, sia l'inizio della loro nuova vita. Auguri e buona fortuna in Turchia, i problemi adesso ce li ha l'Inter.